Anche Elisa Merlo, Elisa Merlo, dai, vai dalla Merlo Elisa, 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 Elisa Enrica, Enrica, Enrica Enrica, 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 vabbè in un momento di enfasi grande, grande scudetto Come stai? Dopo le tante difese e tutte Non sto, non sto, anche perché pensai tante volte bisogna rendersi conto a fine partita di quello che si è fatto da domani probabilmente comincerai a capire che c'è stato sto scudetto del primo scudetto come per tanti di noi penso che sia una grandissima soddisfazione perché come abbiamo tatuato sul braccio e non era facile come stavo dicendo prima dopo la sconfitta che avete avuto in casa l'ultima, provare la reazione non era facile assolutamente no, però quando si sta unite in qualsiasi palla punto su punto viene fuori quello che è il vero cuore quindi quello che è il vero spirito della squadra brava Enrique e complimenti per questo scudetto